Monsignor Signoretto, siamo a Verona, vicario episcopale per la cultura della nostra diocesi e oggi parlerà di valorizzazione. La parola valorizzazione però è spesso fin troppo utilizzata, quasi abusata. Ma dalla sua esperienza qui in città, secondo lei è possibile trovare una buona ricetta? Chiaro che sì, più che patrimonio parlerei anche di eredità che abbiamo, rimangono nelle nostre casseforti per quanto anche conservate, sappiamo bene, non è valorizzata. Quando si parla di valorizzazione si sente un po' quasi sproporzionati rispetto al patrimonio, alla quantità di eredità che abbiamo. Però se noi connettiamo ciò che abbiamo con anche i semplici cittadini, mi viene in mente un viaggio fatto a Roma dove il taxista mi spiegava tutto ciò che si vedeva dal finestrino perché lui è stato preparato, succede una sorta di piccolo miracolo, cioè intanto un cittadino qualunque con il suo lavoro si sente più responsabile di ciò che ha e forse anche un po' più orgoglioso, che questo non è un aspetto così indifferente. Non solo, questo produce poi un contagio per cui quel monumento o anche quel documento che prima era magari rimasto un po' nascosto, sconosciuto, conosce una sua viralità. Poi adesso con questi social, con questi mezzi si può anche fare qualche passo in più da questo punto di vista. Ed ecco che allora la valorizzazione passa attraverso anche un sottobosco, un passaparola, un consegnare quello che è il senso della scoperta. Perché quando un cittadino scopre e si meraviglia di una cosa che magari aveva vicino a casa sua oppure conservato nella propria città, questo fa ricominciare ancora una volta il processo della valorizzazione. Ogni generazione deve in qualche maniera indossare i panni di un Indiana Jones o di un archeologo in qualche modo e andare a riscoprire qualcosa che magari da tanto tempo abbiamo ma l'effetto della scoperta va rigenerato di generazione appunto in generazione e questo produce non solo la conservazione ma anche la valorizzazione.